Quali saranno gli accessori ausiliari targati gamegenic che potranno migliorare la vostra esperienza di gioco? Che aspetti ottimizzeranno e garantiranno protezione e facilità di utilizzo in preparazione ai vostri match? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La gamegenic casa tedesca che ha generato dalle proprie fucine accessori incredibili come il watchtower, il dungeon e molti altri, non smette di portare all'attenzione dei giocatori nuove idee. Tra queste ci sono articoli che possono ancora di più fornire comodità e protezione a tutti gli elementi utili del deck o della propria collezione personale, difendendo da ogni fattore esterno il contenuto in essi custodito. Gli accessori che stiamo per vedere fungeranno come supporto per i vostri GCC preferiti, ovvero aggiunte fondamentali che miglioreranno di molto la vostra esperienza di gioco, permettendovi così di vivere una sessione ludica senza alcun pensiero godendovela pieno. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrò portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite, molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno gli add-on per i vostri TCG preferiti targati Gamegenic. Andiamo a dargli un'occhiata. Le Thick Inner Sleeves rappresenteranno una prima barriera di protezione per le vostre carte, spesse e il doppio rispetto alle tradizionali Perfect, costituiranno a tutti gli effetti una seconda pelle per l'elemento che conterranno. Robuste e resistenti, con saldatura rinforzata lungo i bordi, potranno all'occorrenza essere utilizzate anche al posto delle normali bustine protettive, anche se vi consiglio sempre di adoperarle in combinazione con queste ultime, dato che le misure di queste Perfect saranno, come suggerisce anche la parola, perfette per ogni carta di formato standard, non lasciando quel piccolo spazio di manovra che, attraverso una sleeve invece, potrete avere garantendo una longevità maggiore al vostro intero deck. Attenzione comunque, perché nel processo di inserimento potrete inavvertitamente danneggiare la carta piegandola, data la resistenza che opporrà la struttura dell'accessorio. Quindi procedete con cautela accompagnando la stessa carta fino a fondo corsa. Le Tic Inner Sleeves verranno vendute ad un prezzo indicativo di 4 euro e saranno disponibili in pacchi da 50 elementi. Con spessore pari a 100 micron, praticamente il doppio rispetto alle tradizionali Perfect, questo accessorio garantirà una schermatura iniziale impeccabile, fornendo anche una visione elevatissima della carta che si troverà al suo interno. Costruita interamente in polipropilene e senza utilizzo né di acidi che PVC, avvolgerà alla perfezione ogni elemento che deciderete di proteggere, grazie anche al suo taglio fatto su misura per le carte di formato standard. Arconte, davvero un ottimo prodotto, ma vorrei qualcosa di più... rigido per proteggere al meglio il mio leader per il TCG di One Piece o per il campione di Flash and Blood. Hai qualche consiglio? Vediamo se il prossimo prodotto potrà rispondere a tali esigenze. Lo Slide Car Case sarà la soluzione ideale per ovviare alla sicurezza precaria di carte che saranno il perno centrale del vostro deck. Con meccanismo Slide Lock, questo articolo vi permetterà di inserire al suo interno qualsiasi elemento vorrete in modo comodo e veloce, assicurando qualsiasi carta nel modo più sicuro possibile, proteggendola da fattori esterni come acqua o sporco che altrimenti ne intaccherebbero l'integrità. Ideale per giocatori di Flash and Blood, dove oltre al campione potrà essere messa al sicuro anche l'intera gamma di armatura ed armi, Magic Commander e il del TCG di One Piece, lo Slide sarà il supporto ideale per tutti quegli appassionati che vorranno sfoggiare durante un torneo il loro pezzo forte senza preoccupazioni di nessuna sorta. In più il materiale di costruzione possiederà anche un gradiente che schermerà la superficie del dorso dai raggi UV, mantenendo inalterato quanto più a lungo possibile l'aspetto naturale della carta anche per lunghe sessioni di gioco sotto il sole. Lo Slide Car Case verrà venduto ad un prezzo indicativo di 13€ e sarà disponibile in pacchi da 12 elementi. Facilmente impilabili uno sull'altro, questo accessorio garantirà la massima protezione contro fattori esterni e raggi ultravioletti che, altrimenti, danneggerebbero l'integrità della carta. Completamente realizzati in polistirene, con gradiente UV e senza utilizzo di acidi né PVC, questi case saranno completamente compatibili per essere inseriti in altri accessori della stessa casa produttrice come il Lair, lo Squire 100 Plus XL e il Watchtower 100 Plus XL. Ora, diversi appassionati sono certo apprezzeranno molto i prossimi due articoli che stiamo per trattare, soprattutto per la loro funzionalità, ideale per tutti coloro che utilizzeranno un gran numero di token. Il token holder sarà la scelta ideale per tutti coloro che vorranno avere sempre con sé i propri segnalini da gioco. Il prodotto si presenterà con il logo della casa produttrice sulla parte superiore, uno spazio dove scrivere il contenuto o altre info utili, sia sulla parte frontale che dorsale, il nome della stessa Gangenic con al di sotto un'ennesima striscia bianca dove riportare in forma scritta cosa conterrà la scatola sul fianco destro e sinistro e il nome con il logo sempre della casa di produzione stampati sul fondo. Il suo sistema innovativo a scatto sicuro andrà a mantenere ogni token al suo interno, evitando che aperture accidentali riversino l'intero contenuto per terra. O, all'occorrenza, se non vorrete utilizzare questo accessorio con lo scopo per il quale è stato pensato, vi tornerà comunque utile per un mazzo da 40 carte con bustina doppia o 50 con singola bustina o addirittura 80 senza sleeves. Con le sue saldature forti, inoltre, possiederà una struttura che, alla lunga, sopravviverà meglio all'usura data dal costante utilizzo, permettendovi così di servirvi di questo accessorio più e più volte. Se vorrete invece optare per qualcosa di più elegante, allora il Token Keep sarà pronto a servirvi per rispondere a quante più esigenze avrete. L'accessorio si presenterà minimale e riporterà unicamente il logo della casa produttrice sulla parte alta del coperchio e solamente il nome della Game Genic sia sul lato destro che sinistro. Una volta aperta la confezione, saranno presenti ulteriori loghi in tramargentata, sia nella parte inferiore della chiusura che sul fondo del compartimento. Compartimento che potrà ospitare al suo interno diversi segnalini che torneranno utili durante un match o, come per lo stesso quantitativo di carte. La presenza di magneti integrati, inoltre, permetteranno alle due strutture, superiore ed inferiore, di mantenere una presa salda che, nel caso di chiusura della scatola, non permetterà a nessun elemento di fuoriuscire accidentalmente, mentre, se la confezione risulterà aperta, vedrà la stessa copertura agganciarsi lungo i fianchi del prodotto, occupando quindi il medesimo spazio sia in uno stato che nell'altro. Essendo disponibile in mercato in diverse colorazioni, inoltre, potrete sbizzarrirvi con la personalizzazione, staccando e riattaccando ogni singola parte muovente del keep per creare numerose combinazioni diverse. Il token holder verrà venduto ad un prezzo indicativo di 3 euro e sarà disponibile in 10 colorazioni diverse. Rappresentando la soluzione più semplice ed economica della gamma, questo accessorio potrà contenere al suo interno una varietà di token a seconda dell'esigenza del giocatore, o un discreto numero di carte pronte per essere impiegate in partita in modo sicuro e pratico grazie alla sua chiusura integrata nella struttura. Robusto e forte, l'holder rappresenterà la scelta ideale per tutti coloro che vorranno, in qualsiasi momento, usufruire dei segnalini utili per indicare condizioni speciali o malus che potranno presentarsi durante un match. Costruito in polipropilene senza utilizzo né di acidi che PVC si sposerà alla perfezione per essere contenuto a sua volta nella fascia di prodotti Game Genic, categoria Deck Box Serie Plus. Il token keep verrà venduto ad un prezzo indicativo di 10 euro e sarà disponibile in 6 colorazioni diverse. Costruito in materiale in exofiber plus all'esterno e microfibra all'interno, assolverà quasi agli stessi compiti dell'holder, essendo però più elegante. Con forti magneti integrati nella struttura, possiederà una chiusura forte e stabile, mantenendo ogni singolo elemento di qualsivoglia natura al sicuro da cadute accidentali. Grazie al coperchio up and down, il keep occuperà lo stesso spazio sui tavoli da gioco, risultando pratico e funzionale anche durante lo svolgimento attivo di un match. Grazie al suo design modulare, inoltre, questo accessorio non solo potrà essere personalizzato secondo i propri gusti personali, ma sarà perfetto per essere contenuto, anche qui, nella fascia di prodotti Game Genic, categoria Deck Box, serie plus, come il Dungeon 1100 e 550 Plus. Prima di concludere, volevo ringraziare ancora una volta la Game Genic per avermi inviato i prodotti trattati in questo contenuto. Se porrete testare da voi l'efficacia di ognuno di essi, come sempre, vi lascerò i link in descrizione. Forza, protezione e comodità, questi tre aggettivi che descrivono al meglio ogni accessorio, e grazie al loro utilizzo, giocare al vostro TCG preferito sarà più semplice e sicuro di quanto non sia mai stato, permettendovi così di sprigionare il vostro pieno potenziale, concentrandovi totalmente sui match che affronterete. E voi, avete già testato la validità di questi supporti fondamentali? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.